Grazie. Mi sentite? Poi dopo mi direte anche se mi capite, ma quello dopo, sono due cose diverse. Grazie e grazie a Fabrizio e ai Francescani che mi hanno invitato e come Fabrizio riferiva sono venuto diverse volte a Bologna, ma invitato dai Domenicani. Avendo la conoscenza del fatto che nei secoli scorsi Domenicani e Francescani erano sempre in competizione, mi fa piacere sapere che adesso c'è una collaborazione addirittura negli eventi culturali. Dunque, la tematica paterna è qualcosa che ho cercato di affrontare il testo a cui si riferiva Fabrizio. Negli anni 90, quando ho constatato, negli anni 90 c'era già internet, anche se si usava poco, si poteva usare per ricerche fondamentali, come per esempio accedere ai cataloghi delle grandi biblioteche nel mondo e questa ricerca ci diceva che nel mondo i testi riguardanti la madre erano circa dieci volte più numerose delle ricerche riguardanti il padre. Quindi c'era un grosso lavoro da fare. Cerco di mettermi in relazione, adesso che è appena uscita la nuova edizione del mio libro, aggiornata con qualche dato, cerco di sintetizzare. Diciamo che da allora, soprattutto in lingua inglese, ma poi anche in Italia, è stato pubblicato molto, la tematica viene dibattuta molto e tuttavia con una sproporzione originaria come quella di 10 a 1 resta ancora moltissimo da fare, anche perché nella vita abbiamo di massima bisogno o abbiamo avuto, il problema è se abbiamo ancora bisogno, di tutti e due, una madre e un padre. Il problema nella storia è sempre stato se i padri sono necessari oppure se, come qualcuno in certi momenti ha quasi sottinteso, i figli, non solo la loro generazione fisica ma anche la loro crescita, è cosa delle donne. Un'altra constatazione preliminare mi verrebbe da fare rispetto agli anni 90 è che era difficile allora in Italia e, come dicevo prima con Fabrizio, anche in località dove ho lavorato abbastanza in America Latina, ho tenuto molte conferenze, in modo particolare comunque nelle culture latine, non era facile parlare del tema padre perché questo implica parlare di emozioni, di sentimenti, non solo di statistiche. Parlare di atteggiamenti psicologici ovviamente significa parlare di affettività e parlare di affettività maschile è soggetto a molti più tabù in una cultura latina che non parlare di affettività femminile. Vieni guardato un po' così. Con conseguenze trovo gravissime. So, e tra l'altro è persino capitato anche a me che nei tribunali, nei momenti di separazione, quando si discute sul tempo che i figli devono trascorrere con un genitore o l'altro, ci si sente dire certe volte, vabbè ma lui è solo il padre, perché vuole stare così spesso con i figli. Questo è cambiato abbastanza per fortuna, anche se per esempio per continuare a riferirmi ai casi di separazione, di divorzi, non solo in Italia ma perfino nei paesi del nord Europa, persino nei paesi scandinavi, nella maggioranza dei casi, stragrande maggioranza dei casi, i figli vanno ancora con le madri e quindi si crea poi un'assenza di padre statistica, fattuale. Questo da un certo punto di vista continua, in un certo senso ha plafonato, uno degli allarmi già negli anni 80, anni 90, era proprio la scomparsa graduale, la continua, il continuo aumento per esempio dei divorzi e quindi l'assenza numerica dei padri, questo in un certo senso ha plafonato, anche perché quando si arriva a un certo tetto non si può sfondare il tetto, è già molto alta. Quello su cui vale la pena di interrogarsi però è l'aspetto psicologico e culturale, non soltanto quello statistico. E a questo proposito appunto perché non sto parlando soltanto di numeri e di semplificazioni, come psicanalista in particolare come psicanalista e junghiano, parlo prima di tutto di figure psicologiche, di presenze psicologiche. Abbiamo la presenza del sole, lei si abbronda. Di presenze psicologiche e quindi non necessariamente non necessariamente di persone con, come viene definito scientificamente, il sesso maschile con il cromosoma XY rispetto ad altre persone con il doppio Y, come la donna. Sto parlando di presenze psicologiche. Molto spesso il padre è assente, anche se non è assente una figura maschile in famiglia. Su questo dobbiamo tornare da un punto di vista psicologico. Cosa vuol dire? Parlare di un principio paterno a cui molte volte le persone di sesso maschile hanno comunque abdicato. La scomparsa o l'assenza del padre significa questo, non soltanto la scomparsa per divorzi. E allora permettetemi di tornare con un'altra definizione che ho posto a suo tempo al centro della mia ricerca e che direi con le constatazioni fatte successivamente rimane assolutamente ancora valida, non perché l'ho detto io ma perché ho cercato di mettere assieme vari punti di vista psicanalitici ma anche di storici, di antropologi. Ho tratto moltissimo dalla più grande antropologa del XX secolo, Margaret Mead. E cioè questo. All'interno dell'identità femminile, due sottoidentità o due polarità, la compagna, la donna, la femmina e la madre, sono due polarità unite armonicamente perché sono unite in tutte le culture anche perché sono unite già dalla natura. E' inutile che lo specifichi questo, anche in tutte le specie animali e così nella specie umana. Il padre invece è sostanzialmente una creazione della civiltà, quindi una creazione umana. anche gli animali a noi più vicini, le grandi scimmie, anche qui semplifico perché non sono, come sapete, i nostri antenati diretti, ma comunque non conoscono il padre. L'accoppiamento avviene quasi sempre per competizione dei maschi. E quindi, qua passo all'identità dell'essere maschile, l'essere maschile ha due polarità presso noi umani, no? Il maschio e il padre. Però il padre è una costruzione recente, è una costruzione della civiltà. O, per dirlo in altri termini, è la storia che ci ha dato il padre. E la storia cambia continuamente e la storia potrebbe riprenderselo. Da questo nascono le nostre preoccupazioni e infinite ricerche, no? La madre e la femmina sono due fatti istintivi. Quindi, il maschio e il padre sono uno un fatto istintivo, l'altro un fatto in un certo senso anti-istintivo. È un auto-addomesticamento del maschio e il padre, no? Una creazione istituzionale della civiltà, che tra l'altro, proprio nel nostro cosiddetto occidente, nella nostra antichità classica greco-romana, raggiunge il suo punto più alto e diventa quello che abbiamo chiamato civiltà patriarcale, no? E naturalmente l'interrogativo è se con le critiche che il secolo XX ha fatto agli eccessi del patriarcato e dei padri, e scusatemi se per brevità semplifico facendo equivalenti due concetti che poi non lo sono, no? Una cosa è padre, l'altra è patriarcato, che è ovviamente un'istituzione sociale, ma insomma per brevità mettiamo assieme le due cose, aver rigettato gli aspetti più violenti della centralità del padre e del patriarcato, gli abusi in tutti i sensi di autorità, ma anche del resto dei padri nella storia, se non ha però condotto ad una quasi abolizione di un'istituzione che invece dovrebbe sopravvivere, no? E che non può essere sostituita. Perché? Perché se avete seguito il ragionamento che ho cercato in modo molto condensato di farvi, all'interno dell'identità maschile, no? Questa bipolarità appunto maschio e padre non è così simmetrica e così ben unita come le due polarità femminili, no? È molto recente, il padre è relativo, questo lo dicono tutti gli studi storici e antropologici, è creato dalla cultura, quindi varia con le culture, è ovvio dirlo nel nostro occidente o in oriente ci sono differenze enormi e il problema è l'interrogativo su cui dobbiamo riflettere noi oggi, se vogliamo riflettere sul presente, cercando di interrogarci su quali sono i problemi che affronteremo nel futuro, voi giovani, io sono abbastanza vecchio, l'interrogativo è se la società che ha giustamente criticato tanti eccessi, che ha giustamente attribuito più diritti alla donna durante il XX secolo, nel XXI secolo però è risultato degli auspici che si facevano allora, che si faceva per esempio il femminismo quando diceva con una maggior presenza femminile, per esempio, ci sarà nella politica per dire, ci saranno più interventi sociali che nutrono, sono un prolungamento della funzione materna e meno guerre che sono invece un attributo tipicamente maschile, si investirà di più nei servizi sociali e meno negli armamenti. Oggi, nel XXI secolo, uno dei timori che nutro, ma non credo di essere l'ultimo, è che invece ci troviamo ancora in un mondo, in una società a dominanza maschile, maschio-centrica, si potrebbe dire, no? Non più, siamo in una società post-patriarcale, ma non più femminile, siamo in una società post-patriarcale, ma maschio-centrica in cui, tra l'altro, l'elemento maschile non ha più tanto anche quegli elementi del padre buono, no? Che addirittura è il nostro codice, il nostro diritto parla del buon padre di famiglia, no? Da qualche parte, per fortuna, è esistito, non è esistito solo quello perverso, no? Se non siamo invece in una società che è quella dell'altra polarità, cioè il maschio prepaterno, cioè il maschio animale, come dicevo, quello che tutti gli animali compete con gli altri maschi per il dominio del branco, no? Il maschio alfa del branco, il maschio competitivo in una società che, anche per motivi che conosciamo tutti benissimo, di altra natura, motivi di tipo fondamentalmente economico, per esempio, no? La nostra società è diventata sempre più competitiva e quindi, diciamo, la psicologia maschile, ma nel senso del maschio competitivo si è imposta e si è imposta a tal punto che abbiamo oggi moltissime barzellette e quando ci sono tante barzellette vuol dire che naturalmente è un paradosso, ma un paradosso che ha qualche base anche in una realtà che osserviamo sulla cosiddetta donna in carriera, no? che veste elegantissima con grandi scollature femminili, eccetera, ma che è molto aggressiva e molto guerriera, no? Quindi la competitività purtroppo è dal punto di vista di nuovo psicologico, no? Che cos'è? Il maschio psicologico è molto presente anche se apparentemente la moda ci può, per motivi di vendita, no? Per venderci un certo tipo di indumenti femminili, ci dice guardate come è femminile la donna oggi. In realtà uno dei timori che si esprimeva un tempo secondo me si è realizzato e cioè che lo sguardo, la dimensione verticale della società, che era la dimensione dei padri, dimensione verticale che è quella della continuità dell'albero genealogico, no? Nella storia i padri sono sempre stati fissati su questo, perché lo sapete tutti, tutti i diritti di famiglia sono ispirati a questo, no? Mater semper certa, pater semper incertus e quindi un tentativo di istituzionalizzare la presenza del padre, di dirgli ti diamo l'autorità, basta che tu non fai solo il fecondatore, ma anche la presenza stabile che provvede, no? Tutto questo dovrebbe stare nella nostra memoria, dovrebbe stare nella nostra memoria, ce lo dicono anche come psicanalista ci occupiamo dell'inconscio, no? Anche le parole hanno un inconscio, cioè il significato dimenticato che però quando lo ricordiamo ci dice, ah, no? Quando diciamo per esempio matrimonio e patrimonio vediamo che non c'è una simmetria, no? Vediamo che il padre, quindi è sottinteso, dovrebbe essere quello che pensa al futuro, alla sussistenza economica della famiglia, no? Matrimonio invece, sempre monium, sempre latino, è la garanzia alla madre che sarà protetta da una forma di diritto che le assicura, eccetera, eccetera, questo patrimonio e questo, quindi tutte queste... Allora c'era, il padre dovrebbe essere quello che si occupa dei tempi, no? Quello che... il cognome è il cognome del padre, quello che dà la continuità, no? E quindi quello che guarda all'indietro, io discendo da questi, devo essere degno di questi, no? E nel futuro però che fa i progetti per il figlio, per la famiglia in generale. Questa verticalità e questa continuità tende oggi a essere sostituita da una orizzontalità della società che tende a prevalere, no? Orizzontalità anche perché sappiamo benissimo, ci è stato detto tante volte, il giovane, l'adolescente tende sempre più ad apprendere dai coetanei e sempre meno dai genitori, no? Non si rivolge ai genitori o ai nonni, alla famiglia quando ha delle insicurezze, ma si rivolge ai coetanei. Ma questo gruppo orizzontale è anche quello appunto della società dei fratelli, è anche quello dell'orda, del branco animale al limite nei suoi aspetti più distruttivi, quindi è più esposto a un pericolo, no? In cui i giovani maschi vanno alla ricerca di un primato, vanno alla ricerca di una competizione con gli altri maschi per vedere chi riuscirà a essere il maschio alfa del branco, no? Seguono il cattivo esempio. In questo senso, per esempio, mi ha fatto piacere vedere che anche tutte le traduzioni in altre lingue che hanno fatto del mio testo sul padre hanno conservato questo esempio che davo rifacendomi a Pinocchio, che è un grande classico italiano, ma è abbastanza conosciuto. L'ho chiamata la sindrome di Lucignolo. Quando i maschi a una certa età, io me lo ricordo anch'io, a una certa età, scuola media, scuola superiore, cominci ad essere affascinato dal più trasgressivo, no? E soprattutto se hai in casa un padre geppetto, cioè bravo ma non sufficientemente capace di contenerti, segui l'esempio del maschio alfa, del maschio più robusto. Molto spesso era il ripetente, che era più muscoloso, ma che fumava, già beveva alcolici, ci parlava di ragazze e aveva un grande fascino. Anche questo è un fenomeno che fra gli adolescenti è tipicamente maschile e non ha un vero corrispondente simmetrico sul versante femminile, no? Quindi di nuovo è un problema che presuppone, o che ha presupposto almeno, per essere contenuto nella presenza paterna nella famiglia. E di nuovo, vi ripeto, una presenza paterna prima di tutto dal punto di vista di un principio psicologico, perché poi nella nostra società sono molto spesso le madri single, le madri separate, che hanno dovuto rappresentare questo principio paterno, mentre viceversa molto spesso ci sono stati casi, sono in un certo senso particolarmente frequenti, di famiglie in cui il padre è presente, ma non è presente il principio paterno. Credo di avere messo, me l'hanno riferito tanti che l'avevano letto nel mio testo, la frase di una paziente che aveva detto, con una forte sintesi, tra l'altro credo fosse Emiliana, diceva là, il padre tradizionale della famiglia contadina era un tiranno, ma era un padre. Il padre attuale, lo diceva alla fine del secolo scorso, ma è valido, impiegato, operaio, così, è un idiota seduto davanti alla televisione. E purtroppo ha del vero, ne abbiamo visti tanti, no? Di padri assenti di questo tipo che non erano fisicamente assenti, ma lo erano. Dunque, come vi dicevo, esistono, se posso riassumere anche qui, delle sintesi psicanalitiche che io ho fatto per quello che riguarda un pubblico e una conferenza di informazione più generale come qui oggi, esiste, diciamo così, una funzione primaria che da sempre in tutte le società è stata affidata alle madri, che è quella di esaudire i bisogni, i desideri del bambino, che è un seguimento, ovviamente, prima di tutto della gravidanza, poi il nutrimento attraverso l'allattamento e un atteggiamento psicologico, ma anche culturale, nelle gran parte delle culture, ma anche legato alla scissione domestica dei compiti, per cui è la madre che cucina, eccetera, eccetera, la funzione nutritiva, il dare. Esiste poi una funzione invece secondaria in cui man mano al bambino che cresce vanno insegnate altre cose, cioè gli va insegnato che esiste, prima di tutto, non solo l'abbraccio oceanico tra lui e la madre, ma anche un terzo, che è il padre stesso, che è, diciamo, la cosa più banale, che è addirittura banalizzato la psicanalisi, che magari vuole rientrare lui nel letto con la madre, invece di vederci sempre il bambino, è stato espulso, no? Ma poi esistono i fratelli, ma poi man mano che cresce esistono i compagni all'asilo, a scuola, esistono i vicini, esiste la società. E quello che impone la presenza della società, però non è solo il padre cattivo, il padre castratorio, no? In questo senso, come analista junghiano, sono stato qualche volta proprio in polemica con le visioni freudiane più vecchio stile, no? Il padre come colui che entra in un rapporto sempre di competizione col figlio maschio e sempre castratorio, no? Il padre è colui che dice io ti insegno che c'è questo limite, ma non perché io sono castratorio, io ho l'autorità e voglio vincere io, ma perché voglio per te, appunto questo sguardo nel tempo, un futuro migliore. E quindi ti dico adesso, hai guardato mezz'ora i cartoni animati alla televisione, adesso si studia perché, non perché sono dispettoso e castratore, ma perché alla fine dell'anno saremo tutti più contenti, io e tu, no? E la mamma e tutti. Quindi questa funzione secondaria che ovviamente è una funzione che ha a che fare con il limite, no? è in questa fase dove tradizionalmente entrava la funzione secondaria che era attribuita al padre, ma che essendogli stata attribuita per secoli, addirittura per millenni, è molto difficile che vari completamente, no? Questa attribuzione, anche perché, come dicevo, la funzione primaria invece spetta alle madri anche come prolungamento di una funzione biologica, no? è in questa funzione, in questa fase secondaria della crescita, ma anche qui non è ovviamente necessariamente una fase cronologica, può avvenire prima o dopo, ma sto parlando di un tipo di intervento, di un tipo di funzione psicologica che da sempre è stata necessaria a questa funzione maschile. Le madri molto spesso hanno dovuto sostituire i padri, anche in passato. Oggi, con l'aumentare di famiglie monogenitoriali, che sono prevalentemente famiglie in cui c'è solo la madre, di nuovo saranno le madri a doverlo esercitare, però è una funzione paterna. Uno degli aspetti buoni che ha avuto la Chiesa nel nostro Paese, nei secoli, è stato di offrire spesso laddove mancava un padre metaforico, in sostituzione di questo. Tutto questo rimane aperto e non ha necessariamente a che fare, lo sottolineavo, con la presenza fisica dei padri. Oggi, dicono le osservazioni, abbiamo segnali di diverso tipo, contraddittori, e quindi sta a noi vedere come ne usciremo. Da un lato, sicuramente, anche in Italia, oggi, come un po' prima, nel Nord Europa, abbiamo sempre più padri accudenti, che si occupano dei bambini anche piccoli, che fanno dei turni nel cucinare, nell'occuparsi dei bambini nel senso più diretto. Il problema è che questo è un ottimo aiuto per quello che riguarda ciò che abbiamo chiamato la funzione primaria. Non copre ancora quella che chiamiamo funzione secondaria. E in un certo senso, l'inconscio di nuovo linguistico del nostro linguaggio riconosce questo e incorpora questa preoccupazione per quello che verrà dopo nel nostro Paese proprio perché per questi padri accudenti si usa spesso l'espressione che a me non piace tanto mammo perché è di apprezzamento ma anche al limite dello svalutativo. È un riconoscimento che può essere anche svalutativo. Non è necessariamente una valutazione. E quindi è, se posso usare qui un linguaggio psicoanalitico, la famosa definizione del forse il più celebre psicoanalista dell'infanzia Winnicott che parla di madre sufficientemente buona è una madre sufficientemente buona di sesso maschile. Questo mammo. Il problema è cosa avverrà dopo con gli adolescenti soprattutto gli adolescenti maschi che vanno contenuti e che dicono tutte le statistiche laddove è assente il padre sono molto più propensi ai comportamenti trasgressivi sia all'andare male a scuola sia alla criminalità. Dicevamo prima per esempio esistono statistiche impressionanti ovviamente soprattutto di nuovo quelle di società complesse e sgranate come quelle dell'America Latina sgranate nel senso che c'è una base distantissima dal vertice della piramide una complessità etnica culturale economica eccetera se andiamo alla base della società c'è una grande assenza di padri e c'è delle bande criminali che si perpetuano però negli strati più bassi della società la prossima generazione i giovani maschi finiscono nella criminalità molto più facilmente quando vengono da famiglie senza padre anche rispetto ad altre famiglie la povertà l'esclusione sociale ovviamente vanno combattute ovviamente contano anche quello ma a parità di povertà laddove c'è il padre il figlio studia e quindi nella generazione successiva esce da quella come sta dimostrando l'America Latina in cui moltissimi paesi si stanno finalmente formando le classi medie e il superamento di questo ma voglio dire il superamento è un fatto economico ma è anche un fatto di questo tipo e a questo vorrei aggiungere un'altra realtà etnico culturale che non conosciamo abbastanza nel nostro paese ma che va tenuta presente proprio perché è sempre da qualche studio anche comparato che capiamo meglio le cose noi ci ricorderemo o sicuramente qualcuno si ricorderà di un personaggio che adesso è passato nell'ombra che si chiama Obama perché Obama non ha fatto solo chissà se hanno funzionato politiche sociali contro l'esclusione ma ha intrapreso per primo delle politiche sociali per gli afroamericani facendo delle grandissime campagne per restituire ai giovani maschi di colore afroamericani l'orgoglio della paternità perché l'esclusione degli afroamericani dalla società del benessere americana a un secolo e tre quarti dalla fine della schiavitù che continua in certe parti del paese drammatica come allora è dovuta in gran parte a questo nelle famiglie degli stati stati uniti ci dicono che la famiglia afroamericana ha tutti i due genitori il range tra il 20 e il 30 per cento quindi bassissima e di nuovo senza padre non si entra allora vi dico anche un'altra cosa perché la vediamo ormai anche in Italia io ho vissuto a Milano a Chinatown uno dei motivi per cui anche qui non facciamoci ingannare solo dalle statistiche i cinesi lavorano molto e diventeranno la prima potenza economica del mondo uno dei motivi per cui la Cina sta non diventando ma tornando ad essere come era nei millenni scorsi fino a 500 anni fa la prima potenza del mondo sta in questa costante presenza dei padri i cino-americani negli Stati Uniti hanno un 80 quasi 90 per cento di presenza del padre nella famiglia quindi quello è un elemento predittivo sul successo della prossima generazione quindi ci sono degli elementi enormi va bene adesso chiudo solo con un perché come analista io piano avrei dovuto fare un discorso sul mito è stato citato citando il titolo del mio libro il gesto di Ettore e questo veniva dal fatto se qualcuno di voi ha ancora familiarità con gli studi classici dal lettore dell'Iliade che era l'unico di tutta l'antichità che già nelle parole di Omero quindi nel primissimo poema esprime una modernità incredibile prima si è detto la modernità di Ulisse che è psicologico e così complesso ma anche la modernità di Ettore tutti gli altri sono semplicemente come li abbiamo chiamato dei maschi combattenti dei maschi guerrieri tra l'altro l'Iliade stessa è quasi una metafora dell'uscita faticosa dallo stato animale perché sono tanti maschi che combattono per la femmina in assoluto Elena la più desiderabile delle donne quello è l'assurdo motivo di una guerra della prima guerra mondiale perché è la prima guerra fra due continenti fra due immense popolazioni però abbiamo da un lato Achille dall'altro Ettore i due eroi Achille e tutti gli altri eroi vengono come sapete sempre descritti da Omero con certi aggettivi che si ripetono a proposito di Ettore ogni tanto un epiteto che gli viene attribuito è il difensore dei bambini non combatte solo per la gloria e quindi per il suo successo narcisistico personale maschile ma combatte per assicurare il futuro alle generazioni future per risparmiarli da quello che è il primo genocidio perché i bambini figli maschi verranno gettati dalle mura di Troia come saprete dal mito poi e quindi diciamo purtroppo il mito ci dice anche che nel duello tra il maschio primordiale la macchina distruttiva Achille e Ettore che è più complesso che ha queste due polarità del maschile deve essere il maschio che vince ma vuole essere anche il padre solleva il figlio il gesto di Ettore e tra l'altro appunto lo solleva facendo questo gesto e enunciando questa preghiera che io cerco sempre di ricordare perché è molto più ottimista dell'idea vetero-froidiana del padre castrante lui dice Zeus fa che questo figlio sia maggiore più forte del padre questo è il maschio completo che cerca di tenere insieme le due polarità e che nel mito però soccombe di fronte al maschio macchina distruttiva ecco auguriamoci che questo non avvenga ancora nel ventunesimo secolo dove continuamente vediamo questa oscillazione fra estremi come dicevo maschi accudenti ma anche maschi distruttivi maschi che commettono violenze e che continuano dicono tutte le statistiche in tutti i paesi del mondo nelle prigioni ci sono sempre infinitamente più maschi che femmine adesso le statistiche internazionali sulle prestazioni degli studi nei 20 maggiori paesi del mondo ci dicono che il divario tra prestazioni femminili e prestazioni maschili nella scuola superiore continua ad aumentare proprio perché i maschi seguono gli esempi del bullismo e le femmine seguono il vecchio modello di studiare ancora speriamo grazie per la pazienza